Il tornello ha una serie di capacità discriminatorie per quanto riguarda i comportamenti. Il tornello che è stato realizzato riesce a capire se un comportamento può essere di contrasto alle norme di sicurezza o meno e nel caso lo sia di far intervenire la vigilanza. Per tutto il resto autonomamente attua dei meccanismi per i quali il passaggio viene inibito. Grazie